Ciao a tutti, non sono Jessica, non sono un influencer, non sono una fashion blogger, non cerco popolarità sui social, ma sono qui per fare un grande appello. Un appello che voi, vi prego, dovete aiutarmi a far arrivare in alto. Un appello che in qualche modo, qualche carica dello stato importante, qualcuno che abbia una coscienza, intervenga. Allora, vi spiego la mia situazione e mi voglio rivolgere proprio al nostro presidente, al signor Draghi, mi rivolgo proprio a lei presidente. Io ho 37 anni e sono affetta da mastocitosi sistemica, è una malattia rara, ma per la mia regione non rientro tra le persone da vaccinare. Ho tanti altri problemi di salute, ma questa è quella centrale e devo essere vaccinata, devo assolutamente essere vaccinata, perché se io prendo il covid posso morire e non voglio morire presidente, non voglio morire. Il mio medico curante ha scritto alla mia ASL, abbiamo contattato le ASL, abbiamo contattato tanti ospedali. Stamattina sono stata di persona in un grandissimo ospedale di Roma, quattro ore, con la paura di poter prenderlo proprio lì dentro il covid, a passare da una parte a un'altra, da una parte a un'altra. Chi dice una cosa, chi ne dice un'altra e poi sono arrivata a casa senza risultato, perché non sono una loro paziente, perché sono in cura. Da quando ho scoperto di avere questa malattia a Salerno, nella regione Campania, ma la regione Campania non mi può vaccinare, perché io sono della regione Lazio, ma la regione Lazio non mi vaccina. Questo non è possibile presidente, presidente io le lancio un grandissimo appello, perché sono sicura che nella mia stessa situazione c'è tanta gente, sono sicura di questo e non stiamo facendo un buon lavoro presidente. La nostra sanità sta facendo acqua da tutte le parti, ci aiuti, lei e tutte le persone che hanno una coscienza, fate qualcosa. Io ci credo al covid e non voglio morire. Ho una bambina piccola, ho una vita davanti. Io capisco che avete fatto la scelta di partire dai più grandi, che vanno tutelati, che sono la nostra storia, ma noi siamo il futuro. Noi siamo il futuro, presidente, anche con poca salute. Quindi, scusatemi, c'è qualcosa che non sta funzionando. Mi ripeto, mettete, date la possibilità alla gente di acquistarli, chi si vuole curare, chi si vuole vaccinare. È un diritto, presidente, è un diritto, è un diritto. Io vi chiedo con tutto il cuore, con tutto il cuore, perché vi assicuro che in altre regioni il codice della mia patologia è stato inserito e tanta gente è stata vaccinata. Però nell'azione o no? Come mai? Come mai? Perché vi chiedo con tutto il cuore, con tutto il cuore di condividere questo post, di non stare sempre zitti, di non stare sempre zitti. Perché la salute è un nostro diritto, è un nostro diritto. Prego e spero nel buon cuore di tutti. Grazie.